Colpire un latitante non solo è un dato numerico rilevante, ma lo è anche perché mina alla base la capacità di azione della criminalità organizzata, in questo caso dell'Andrangheta. L'azione criminale è sostanzialmente unitaria. Ci sono dei legami che non sono semplicemente di federazione, ma di aiuto reciproco, di cointeressenze e quindi il fatto che dei pregiudicati di Oppido Mamertina sostenessero la latitanza, favorissero la latitanza di Trimboli Natale è significativo in questo senso. Ovviamente l'attività investigativa non termina con la cattura di Trimboli Natale, ma ci saranno degli approfondimenti successivi. Vale la pena sottolineare come si stia parlando di un criminale che operava anche nel nord Italia, quindi con cointeressenze anche nel Piemonte, tant'è vero che una condanna all'ergastolo nasce appunto da un triplice omicidio avvenuto in provincia di Torino.